Il nome Raimondo Lullo è l'italianizzazione di Ramon Llull, di un uomo nato nel 1232 a Mallorca in Spagna, culla della lingua catalana, che merita però di essere un personaggio per tutti, perché egli è una figura medievale che parla ancora a noi distanti nel tempo e nello spazio. La prima volta che ho sentito raccontare delle sue avventure, delle sue invenzioni, io ero all'università di Palermo e subito mi è sembrato vicino e attuale. Egli è uno scrittore, un filosofo, un uomo di cultura, uno scienziato e infatti compare, compare in alcuni manuali ad uso scolastico, ma il suo ritratto vecchio e stereotipo lo fa apparire silenzioso e lontano. Per questo egli un inventore, un innovatore poco conosciuto. Però potremmo dire che è un precursore, un visionario, molto simile ai nostri Leonardo da Vinci o Dante e infatti gode tale fama nella sua terra. Ma egli non è solo spagnolo, perché la sua vita ha avuto un orizzonte mediterraneo. Dalle coste della Spagna si era spostato in Francia e poi in Italia, Genova, Napoli, Messina, da lì al Nord Africa e poi a Cipro, Porta dell'Oriente, per raggiungere la Terra Santa. Quindi Raimondo Lullo in qualche modo un italiano d'adozione, soprattutto per il tempo e le fatiche che ha vissuto in questa terra. Le sue tracce ancora persistono, ma forse non tutti sanno riconoscerle. Perché aveva viaggiato tanto? Tra paesi sì vicini, ma diversi, separati non dal mare, ma da tante differenze di politica, di vita sociale, di religione. Era già aspro allora il contrasto tra il mondo cristiano e i musulmani, per differenze e incomprensioni. E questo Lullo voleva porre rimedio, proprio perché aveva un obiettivo, un'aspirazione, quella della concordia. Egli si porgeva come mediatore interculturale, perché conosceva la lingua, parlava l'arabo e aveva una mentalità aperta, capace di creare relazioni e di superare le differenze. L'immagine di Lullo che dialoga con i musulmani è emblematica dell'inventore dell'Ars Magna, la grande arte oppure arte o metodo universale. Per comunicare con altre culture, Lullo cerca un mezzo linguistico sempre più efficace. Una lingua che sia universale non solo come grammatica semplice, ma anche come termini, non solo come parole ma come idee corrispondenti, che metta a nudo, insomma, le radici comuni. La lingua araba, come l'ebraico, si caratterizza per la radice di tre lettere dalla quale derivano verbi e sostantivi creando famiglie. Anche le altre lingue naturali hanno qualcosa di simile, ma Lullo voleva di più. Voleva un linguaggio formale, facile da imparare, da usare e anche facile da scrivere. Una delle immagini che più ricorre, per la sua peculiarità, è la ruota combinatoria. Così come beato tra le ruote, così fu chiamato in un articolo del 2016 sul Sole 24 ore. E in effetti le ruote, queste tre ruote con perno centrale, sono uno strumento non solo visivo, ma meccanico, attraverso il quale Lullo mostra le numerosissime combinazioni che possono crearsi tra gruppi di lettere. Tra le lettere, ad esempio, B, C, D o B, D, E o F o altre, si formano frasi minime, che sono le stringhe della lingua formale, come le parti della radice creano le lingue naturali. Ma ogni lettera Lullo può attribuire un significato concreto, che però varia. Ad esempio, può scegliere tra buono, grande o bello, oppure assumere per B, C o F un altro significato, quale animale, uomo, Dio. O anche le domande, le domande fondamentali. Perché, dove, quando. E così si creano frasi semplici e condivisibili. Da questa spinta all'uso di un linguaggio formale, usato come calcolo combinatorio, verranno innanzitutto Leibniz, che promette di risolvere in modo meccanico le controversie, i litigi, con un calculemus, sediamoci e facciamo insieme i conti. E più avanti anche le macchine della Inturing, l'esperto di cretografia famoso per aver decifrato il sistema denominato Enigma. In qualche modo, quindi, lunghi secoli è stata portata avanti la scoperta di Lullo, la meccanicità delle combinatorie, perfini forse diversi da quelli originari. Si è arrivati così ai primi computer dell'IBM e le grosse macchine, e nella nostra quotidianità a breve ci saranno robot androidi in grado di utilizzare l'intelligenza artificiale in modo autonomo. Potremmo dire che questo è un esito combinato della spinta informatica data da Lullo e della genialità meccanica di Leonardo da Vinci, che secoli fa aveva già progettato un cavaliere automatico. Ma le combinatorie di Lullo non sono solo meccanismi o tecniche, sono uno stile di vita. Infatti, egli aveva tirato fuori anche un metodo per svolgere le votazioni e ottenere lezioni ordinate e democratiche, un metodo per mescolare erbe e aromi in base agli umori corporei per trarre medicamenti. Un metodo per ricordare le cose importanti, o per scrivere bene, o per meditare e recitare le preghiere, puntando sempre al massimo all'infallibilità. In qualche modo Lullo ha trovato la pietra filosofale, come desideravano gli alchimisti sui contemporanei, non con la chimica o con la magia, ma con lo studio. Lullo aveva molta fiducia nella capacità umana di andare oltre e migliorare le prestazioni fino a sfondare il limite. E questo valeva sia per il soggetto singolo, ma anche per la comunità, con una visione ampia, lì sopra della città o dello stato, una visione, potremmo dire, globale, e dando spazio per un verso alle scienze da studiare e rendere chiare, ma per l'altro verso dando spazio alle relazioni umane, all'atteggiamento di apertura tipico dell'amore cristiano, aperto alla natura, all'invisibile e al trascendente. Di entrambi gli aspetti ancora si sente l'eco, delle sue invenzioni teoriche e del suo agire in prima persona, con apertura senza riserve verso l'altro. Un eco che dall'antichità medievale fino ad oggi risuona e molti probabilmente non sanno che all'origine c'è Raimondo Lullo. Grazie. 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 Grazie.